Benvenute e benvenuti a Smartphone. In questo primo episodio andremo a vedere cosa rende così intelligente il dispositivo che abbiamo sempre in tasca, il nostro telefono. Difatti la parola smartphone deriva proprio dall'inglese e significa smart, intelligente, phone, telefono. Infatti attraverso una funzionalità quale internet che ha reso veramente intelligenti moltissime cose, pensiamo appunto anche alle smart tv, quindi l'aggiunta di internet nelle tv, i frighi smart, l'aggiunta di queste funzionalità appunto aggiuntive date da internet in tutti i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni e il dispositivo che utilizziamo maggiormente è proprio il telefono. Se pensiamo fino a 20-25 anni fa il telefono ci permetteva solo di chiamare e forse mandare qualche sms. Poi con l'evoluzione anche di tutti questi dispositivi, un'evoluzione davvero veloce, ci ha permesso di installare, di mettere nel nostro telefono diverse applicazioni, dalla fotocamera alle applicazioni per vedere il meteo. Quindi davvero la funzionalità di internet ci ha permesso di spaziare su tantissimi temi direttamente con il nostro telefono. Una volta utilizzavamo magari il computer per magari leggere le mail, guardare il meteo, le notizie. Oggi possiamo fare tutto comodamente dal nostro telefono. Abbiamo parlato quindi di applicazioni, ovvero queste funzionalità aggiuntive che possiamo inserire nel nostro telefono, applicazioni quali Whatsapp ad esempio che ci permette di mandare messaggi, foto, video con i nostri amici, oppure applicazioni quali la fotocamera che ci permette di fare foto anche di alta qualità direttamente con il nostro telefono, oppure applicazioni per vedere la tv direttamente nel telefono. Quindi veramente tutte queste applicazioni permettono di aggiungere una montagna, una montagna di funzionalità. Questo proprio grazie ad internet. E grazie ad internet che in questi anni è diventato sempre più veloce e quindi ci dà la possibilità proprio anche ad esempio di videochiamare i nostri amici dall'altra parte del mondo. Ma parlando proprio di applicazioni andiamo a capire come mettere nel nostro telefono le applicazioni, quindi come installarle. Diciamo appunto installare proprio perché le applicazioni non sono presenti nel nostro telefono ma andiamo a prenderle da internet, da questi store virtuali, questi negozi, dove appunto possiamo andare a prendere le applicazioni e inserirle nel telefono. Uno di questi ad esempio per Android, quindi per i telefoni maggiormente utilizzati, è il Play Store, il Google Play Store. Prendiamo quindi il nostro smartphone e andiamo a cercare dove si trova questo negozio virtuale di applicazioni. Nel mio caso sarà il Play Store. Andiamo a cercarlo e eccolo qui. In basso a destra troverò questa iconcina con un triangolo colorato. Clicchiamo sopra e si aprirà questo negozio virtuale dove troveremo veramente tantissime tantissime applicazioni. Nel mio caso voglio andare a installare l'applicazione dell'Arpav Meteo. Quindi nella barra di ricerca in alto andrò a cliccare e scriverò il nome dell'applicazione che voglio installare. Ecco qui, una volta scritto il nome e cercata l'applicazione, troveremo tutti i risultati che corrispondono a quel nome. Nel mio caso l'applicazione che voglio installare è Arpav Meteo, quindi cliccherò sopra e ecco qui che comparirà la pagina dell'applicazione dove troveremo anche una piccola descrizione dell'applicazione che vogliamo installare. Quindi un grande tasto con scritto installa, lo premiamo ed ecco qui che la nostra applicazione verrà scaricata da internet e messa nel nostro telefono, quindi per poterla utilizzare subito. Ed ecco qui che la nostra applicazione si è installata correttamente, infatti troveremo un tasto apri, proprio che ci permette di aprire l'applicazione che abbiamo installato. E proviamo proprio ad aprirla. Apriamo e troveremo, visto che abbiamo installato l'applicazione del Meteo, troveremo il Meteo disponibile proprio quello dell'Arpav, quindi con tutte le informazioni relative al Meteo. Di applicazioni se ne sono davvero tante e ogni volta che ne installiamo una, questa comparirà proprio nella nostra schermata e nel menu del nostro telefono. Infatti qui troveremo tutte le applicazioni che abbiamo presenti nel nostro dispositivo, che siano le applicazioni che troviamo già nel telefono, come la fotocamera, la rubrica, i messaggi, oppure tutte le applicazioni che andiamo a installare in un secondo momento, come Whatsapp ad esempio, l'app del Meteo, i social network, quindi tutte le applicazioni che aggiungeremo le troveremo qui, nel nostro menu. E con le applicazioni e questo primo approccio al dispositivo è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!